un buongiorno a tutti gli amici dell'instagram stories by clementino e niente è stata una bellissima settimana ho suonato come un assassino un giorno smetterò di fare il rap ma ancora non è arrivato il momento niente dopo questa settimana di musica rap e sud Italia soprattutto perché ho toccato tutte le regioni praticamente dalla Puglia alla Calabria alla Lucania prendo un po' di pausa e vado a Barcellona purtroppo vado dopo due giorni d'inferno e sappiamo quello che è successo a Barcellona però vado a portare un po' di solo e un po' di sorriso nella stupenda città spagnola allora napoletani e italiani a Barça sono arrivati in Hawaii sono molto Ah, hola, io mi chiamo Clementino, ho 35 anni, sono da Napoli. Se lo faccio, lo peto, dame la calata, hai la cabeça fumata, palma formentera, barca per tutta la esquina, psicolabel mexicano, la resina ti elimina. Toch, hijo, ti dice tutta la gente che non lo sa, che naturalmente incrementas la creatività, e soprattutto tu sei un bravo, un bravo, un bravo, un bravo, un bravo. Ti giuro mamma, questo è l'ultimo caffè che bevo e il poco del canzo mi rende nervoso e pregunto. Mi sento, sono la voce che intende, niente. Arrivo a Barcellona e ci vediamo lì, ciao a tutti. Ah, l'ultima cosa, che quando arrivi a Barcellona, Messi può accompagnare solo. Ecco l'aeroporto di Napoli ad Agosto, non c'è nessuno in vacanza, aiutate. Ad Agosto, vedi, bene, vedi, è tutto così. Allora, tu dove stai andando? A Amsterdam. Ah, vedi che va, lui va a Amsterdam e non ci vogliamo. E allora vi vengo a trovare qualche volta. Il seno a Barcellona prende il posto di Messi. Bello.